Outside is frightful, but the fire is so delightful And since we know a place to go Let us know, let us know, let us know It does a short sight Buon pomeriggio Babbo Natale, ma mi sa che sta un po' fuori tempo massimo, adesso siamo a primo dell'anno e Natale è un po' superato, quindi meglio adeguarsi a primo dell'anno Oh, buon pomeriggio Lei non spazzacamino adesso? Qui però, sai, a Via Teulada i cammini non ce li abbiamo No, non ce li abbiamo, mi dispiace Non ci sono, non ci sono Così Allora, buon anno a tutti Oh, buon pomeriggio Però l'abito da donna, l'abito quello, no, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo Vi dicevo, buon anno a tutti Oh, salve di nuovo Non ci siamo capiti, non è l'abito che non va, ma è la barba È la barba che non va E allora, buon anno a tutti Adesso sì, buon anno Auguri, auguri a tutti Auguri a Luca Lombardo Trasformista Grazie mille Marco Di grande successo, Festival di Sanremo e molto altro Caro Luca, che piacere averti qua Piacere mio Che i miei ospiti, sempre nella tua trasmissione Sono veramente felice di essere il primo gennaio Quindi la prima puntata, dovevo iniziare proprio così E ti fanno gli auguri tutti gli altri Ah, saluta, mi auguri a tutti loro Allora, anche tu ti sei trasformato nella vita Questa puntata mi sta emozionando molto Perché parla ovviamente del cambiamento, di quello che è accaduto Chi più di un trasformista può parlare di cambiamento E praticamente io ero un militare Ad un certo punto ho lasciato il cosiddetto posto fisso Per poter fare l'artista Ho iniziato a girare un circo in Francia Poi ho iniziato un po' a girare il mondo con lo spettacolo A questo punto poi sono diventato un clown Quindi da militare, clown È stata la prima trasformazione Abbiamo le fotografie anche, no? Di quando eri militare, ecco di qua E poi trasformato in un artista Artista a livello internazionale Trasformista No, ma la cosa bella è che io adesso sono io qui Sono un po' il portavoce di questo Ma c'è tanta gente, Marco, che decide di cambiare la propria vita, no? Ci sono persone coraggiosissime Ad esempio, c'è una certa Valentina Che faceva la dipendente in un studio notarile Ad un certo punto ha seguito la sua passione Eccola Ha mollato tutto anche lei Un po' di follia ci vuole, ovviamente Sì? Dove è accaduto tutto questo? Al banco di un mercato Lei adesso si definisce una Fiorista freelance Ambulante, diciamo Hai capito? Dallo studio notarile Che va dalle persone Questa è la cosa bella Ma ce ne sono tante Io poi le cerco, le cerco su internet Perché mi danno anche a me carica E questa è la verità Perché non ti nascondono Ogni tanto uno vuole sapere Se è stato proprio un folle completamente C'è qualcun altro C'è addirittura la storia di Andrea Andrea era un giornalista a Milano Un giornalista professionista All'improvviso In Puglia A fare il fornaio Ah, è qui da giornalista E poi è diventato fornaio Lì in Puglia Ma c'hanno sempre Dopo la trasformazione Sono sempre più felici, sembra Ma poi Andrea Si sveglia tutti i giorni alle 3.45 E finisce di lavorare la sera Ma lui è felice E pure più felice di prima Bellissimo questo messaggio Sulla capacità Sulla voglia Sul coraggio di trasformarsi Per trovare di più se stessi Mauro tu ne sai qualcosa Io ne sai qualcosa Però io faccio un lavoro minimo Mi trasformo Da questo in quell'altra E poi torno indietro Tu ne fai uno più complesso Qual è la trasformazione Dei vari personaggi Se posso Il trasformismo è Un'idea meravigliosa Che arricchisce la vita Di chi come te lo fa per mestiere C'è un'unica professione Dove non bisognerebbe Sare trasformisti E della politica Il trasformismo in politica Vorremmo che almeno quest'anno Lo si evitasse a noi cittadini Per avere un'idea chiara Di chi ha il potere E di chi cosa può fare per noi Una volta detto Eseguito Grazie Parole sante Siamo proprio il primo Quindi Senti sai che anche Anche tra i conduttori televisivi È successo Perché c'è un conduttore Che ha avuto Un'esperienza ventennale Da conduttore in televisione Bravissimo Tra l'altro Fabrizio Gatta No? Qui su Rai 1 Era E lui Eccolo qua Fabrizio Gatta Proprio poche settimane fa Mi sembra il 7 dicembre scorso Ha preso i voti E è diventato un sacerdote Capito? E lui Lo ha detto Si sente più felice E quindi Questo è il messaggio tuo Che facciamo nostro Il coraggio di prendersi se stessi E la trasformazione A questo punto È proprio una vocazione per tutti Non solo per i sacerdoti Grazie a Luca Lombardo Che sarà in scena Per la prima volta Nella tua città Che è Napoli Con lo spettacolo Pubelle Che significa rifiuti Che significa rifiuti Vedi Rifiuti da rigenerare La storia di un clochard Con la regia di Augusto Fornari Se posso dire questo Che mi ha dato tantissimo Come no? Ma certo Gratitudine fondamentale Grazie Grazie mille Grazie Ciao